Allora, questo qua è il liquore storico di Oleggio, è stato fatto 40 anni fa nella piazza di Oleggio. Noi abbiamo rilevato questa ricetta storica e l'abbiamo brevettato, l'abbiamo lanciato mantenendo la ricetta che è quella originale, cioè una macerazione di lamponi in grappa, senza coloranti, senza litivi, niente, l'abbiamo fatta con i lamponi quindi? Fatto con i lamponi, sono lamponi messi a macerare per un mese nella grappa, senza litivi, senza coloranti, niente, è una ricetta storica di Oleggio. Dove è nata questa ricetta? Oleggio, nella piazza di Oleggio, Oleggio Grande, provincia di Novara. Ma in altre località si usa ugualmente? Come? A parte Oleggio, diciamo. Beh, a parte Oleggio dove è nato? Adesso, oramai, in tutte le regioni del nord Italia sicuramente e anche in Italia, lo stiamo piazzando da tutte le parti, è un prodotto che continua a crescita, poi abbiamo avuto un'evoluzione, abbiamo creato tutta una serie di varianti, tra cui al liquore allo zenzero abbiamo fatto l'amaro col marchio freddozzo e abbiamo fatto tutte le derivazioni di prodotti al lampone, tra cui abbiamo anche la birra al lampone, le confetture, i dolci al lampone, quindi stiamo cercando di portare avanti anche il discorso dei frutti rossi, quindi sconsolizzare e di portare avanti il discorso dei frutti rossi, oggi un po' tutti ci vedono qualcosa di magico nei frutti rossi, no? Poi speriamo che sia raro, come dicono, però i prodotti sicuramente sono buoni. Ecco, per gli interessati come fanno a trovare il prodotto? Chi vuole prendere il nostro prodotto, noi abbiamo creato anche la casa del freddozzo a Oleggio, in Oleggio abbiamo creato una struttura bellissima che ricorda anche un po' il discorso che ho detto fino adesso della ricetta e tutto, un ambiente particolare, dove abbiamo creato questa casa dove si facciamo degli eventi, delle degustazioni, dove tutti possono venireci a trovare, trovate tutte le indicazioni sul nostro sito o su qualsiasi social, la casa del freddozzo.